1.300.000 firme contro l'autonomia differenziata del governo Meloni, 750.000 raccolte cartacee e le altre online, è una bella mobilitazione questa, perché la risposta della gente è stata forte, è stata chiara, chiaramente ora dobbiamo continuare a mobilitarci in vista del voto, che a questo punto è sicuro che ci sarà, perché noi ci teniamo a che la gente possa esprimersi su una riforma che spacca in due il paese, spacca in due un paese che ha bisogno di essere ricucito nelle sue fratture e nelle diseguaglianze territoriali che hanno colpito soprattutto il sud e le aree interne, ma attenzione perché questa è una riforma che fa male anche al nord, non si può pensare a 20 diverse politiche energetiche quando ne servirebbe una per riuscire ad abbassare le bollette delle imprese e delle famiglie, le nostre imprese perdono competitività perché l'Italia ha i costi energetici maggiori d'Europa, non è il momento della frammentazione, è il momento invece di insistere per una politica energetica comune, cito uno dei tanti esempi per cui si vede quanto questa riforma faccia male e possa essere un colpo di grazia su una sanità pubblica che sta già soffrendo moltissimo, quindi è un bel segnale che l'obiettivo non solo sia stato raggiunto, ma più che doppiato addirittura anche raccogliendolo nei mesi estivi, quindi è un segnale di mobilitazione importante, e noi come Partito Democratico siamo felici di essere parte di questo comitato promotore con tante altre forze politiche e sociali.